Per questo progetto abbiamo usato un Arduino 33 IoT e un Amazon Alexa, poi abbiamo fatto una sottoscrizione al portale di Arduino IoT, abbiamo scelto una username e abbiamo creato un account. Creato l'account abbiamo dovuto poi assegnare il dispositivo, l'Arduino che avevamo acquistato, abbiamo aggiunto l'Arduino, il device all'account e l'abbiamo selezionato, quindi abbiamo selezionato, aggiunge Arduino, abbiamo connesso l'Arduino al nostro computer e a quel punto il portale ha trovato questo Arduino Nano 33 IoT e fatto ciò gli abbiamo dato un nome, quindi abbiamo dato un nome all'Arduino, in questo caso Charlie 2. Poi il portale ha atteso un po' e ha caricato un po' di cose che doveva caricare, comunque abbiamo atteso qualche secondo e il device a un certo punto è diventato pronto per essere usato. A quel punto abbiamo dovuto creare The Thing, quindi abbiamo dovuto creare un nuovo articolo all'interno del portale utilizzando sempre il device che abbiamo creato e l'ho chiamato, diciamo, LED perché il mio scopo è quello di accendere un LED con Alexa. Fatto ciò ho creato una proprietà all'interno del LED che si chiama sempre LED maiuscolo e ho selezionato il tipo di proprietà che volevo usare, in questo caso volevo usare una luce light come tipo di proprietà. Ho aggiunto la proprietà. Fatto ciò ho controllato i parametri di quello che avevamo insomma sullo schermo e non c'era nulla da cambiare, non c'è più nulla da cambiare. Fatto ciò si può fare l'editing dello sketch. Nello sketch che viene automaticamente creato all'interno del portale, quello che ho fatto io, ma non è diciamo una cosa che è mandatoria, io ho copiato lo sketch e l'ho messo nel mio IDE che ho nel mio Mac. Quindi ho copiato lo sketch, ho aperto l'arduino locale e poi l'ho fatto un paste all'interno di uno sketch nuovo che ho creato io. Questo perché mi trovo molto meglio a lavorare sull'IDE anziché sul portale. Quindi ho dovuto copiare, ma ho dovuto copiare anche il file di include, the thingsproperties.h. Quindi nello sketch diciamo locale ho creato un nuovo file che si chiama thingsproperties, una nuova scheda, thingsproperties.h e poi ho fatto un copi e incolla di quello che c'era su thingsproperties.h del portale. In questo file.h ci sono due parametri che vanno aggiornati. Uno è l'SSD, l'SSID della nostra rete Wi-Fi dove l'Arduino si dovrà connettere. Quindi dove c'è scritto secret underscore SSID dobbiamo mettere con le virgolette il nome dell'SSD della vostra rete Wi-Fi di casa. In questo caso io ho messo Charlie Wi-Fi che è il mio SSD a 2 GHz. Sotto c'è la stessa cosa e la password. Io ho usato il nome password e bisogna mettere sempre, in virgolette, la password del Wi-Fi. Altrimenti non si connette. Fatto ciò, alla fine dello sketch c'è questa funzione dove c'è scritto onLedChange bisogna fare qualcosa. Io quello che faccio è scrivo se il led, la variabile led è maggiore di zero quindi significa che il led che ho chiesto da Alexa di accendere il led si accenderà, altrimenti si spegnerà. Prima cosa ho dovuto configurare il setup il led che è quello interno dell'Arduino nano, poi nel setup poi sotto, sempre tornando alla funzione dove prima stavamo mettendo l'if, scrivo se il led è maggiore di zero, praticamente faccio accendere il led eccolo qua. Quindi il led va a high, altrimenti, else, il led va a low. Adesso lo scriviamo. Quindi se il led, se la variabile led, L minuscolo e D maiuscolo è uguale a zero, si spegne il led. Una volta finito questo, proverò che lo sketch venga compilato, quindi premo la barretta in alto, devo dare il nome allo sketch che ho chiamato test led Alexa, faccio salva e a quel punto lo sketch si compila. La compilazione è fatta, vediamo che è tutto a posto, carichiamo lo sketch nell'Arduino nano, quindi fa la compilazione e fa il caricamento all'interno dell'Arduino. Qualche secondo per fare questo, controlliamo che la porta sia quella giusta dell'Arduino, quindi va bene. Una volta che è tutto a posto, che è caricato, adesso dobbiamo configurare Alexa con il giusto skill di Alexa. Quindi dobbiamo andare sul cellulare dove abbiamo caricato l'applicazione di Alexa. Andare nella parte gestione delle skill, cercare lo skill per Arduino, che esiste uno skill Arduino già configurato, si seleziona, si installa, skill Arduino che è il primo, quello con il logo dell'Arduino, e lo skill praticamente viene installato. Installando chiede il login e la password del portale che abbiamo creato prima, quindi dell'account che abbiamo creato prima nel portale di Arduino, in modo che le due, sia il portale che la skill di Alexa si sincronizzano, e che i dati che vengono mandati dal portale, vengono poi, o Alexa vanno dal portale, e il portale poi fa, diciamo, gestire il LED o qualsiasi altra cosa che Arduino voglia gestire. In questo caso, la configurazione richiede dei passaggi di numeri che arrivano via SMS sul cellulare, per motivi di sicurezza, quindi, fatto ciò, si dovrebbe creare, infatti c'è lo skill, e l'Arduino è stata collegata, con successo. Finito questa parte di configurazione, si va a cercare i dispositivi su Alexa, sempre dall'applicazione del cellulare. Ci vogliono 45 secondi circa, e alla fine del processo, scoprirete che c'è, ci sarà un nuovo, un nuovo, diciamo, dispositivo riconosciuto da Alexa, che sarà il dispositivo che noi abbiamo chiamato LED. Attendiamo un attimo. Ecco qua, un dispositivo lampada, perché è una lampada, ho selezionato, ho trovato un successo, light, aggiungi il dispositivo, il dispositivo LED si chiama, che fa parte del gruppo lampada. Possiamo anche controllare che il dispositivo sia lì, e quando seleziono LED, il LED è spento, posso cliccare per accenderlo, e vedremo che è sul... Ma la prova, diciamo, quella schiacciante, è collegare Alexa. Alexa, accendi LED. Alexa, spegni LED. Come avete visto, il LED interno dell'Arduino Nano si accendeva, e si spegneva a comando dell'Alexa. Chiaramente si può fare accendere e spegnere qualsiasi cosa, e quindi questo è un piccolo progettino che vi permette di integrare Alexa con l'Arduino Nano 33 IoT.